Sibia la prende di caffè? Oh sì grazie ci vuole stamattina Guarda Ma potremmo fare Allora non beviare Però secondo me è bello il senso Andiamo a dire che sono chiara Dire chiara Se quello si deve capire Dobbiamo coordinare però Quello di Mara Venere non ti piace Potremmo fare Condurla Mara Venere Ci vorrebbe qualcuno sfigliato Chiara condurrei una trasmissione Rifacciamo